ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video è da circa 4 mesi che ogni giorno porto un video qui sul canale e sapete benissimo quanto tengo veramente tanto ai vostri feedback infatti per me è molto importante che commentiate sotto ad ogni video soprattutto per sapere la vostra ed è per questo motivo che ho deciso dopo tutte le live che faccio la domenica infatti vi ricordo che ogni domenica quindi anche questa domenica sarò in live dalle 17 fino alle 19 quindi dalle 5 fino alle 7 in live dove ad esempio potete chiedermi tutto quello che volete riguardo il mondo dello sviluppo di videogiochi e soprattutto possiamo anche parlare un pochettino ho deciso di realizzare questo video quindi fare un video apposito perché voglio aprire delle nuove rubriche sul canale e la prima che vi annuncio sta proprio in questo video infatti come si può leggere qui sotto mandatemi i vostri videogiochi ho intenzione di aprire una nuova rubrica qui sul canale dove vado semplicemente a analizzare o recensire i vostri videogiochi che avete sviluppato da un punto di vista però diverso penso che raggrupperò più videogiochi in un unico video quindi in un video di 10 minuti un quarto d'ora vado ad esempio a provare 5 6 videogiochi dipende un po anche dalla durata di videogiochi che mi mandate e tramite questo video potete avere i miei feedback una cosa molto importante che però che voglio fare anche se attualmente in costruzione quindi in caso questa la rimandiamo ma la tengo in considerazione sapete benissimo la community che sto creando ovvero la community sviluppare giochi punto it e sapete benissimo che attualmente la community è principalmente presente sia qui su youtube ma anche su facebook precisamente sul gruppo facebook che trovate il link in descrizione dove mancano veramente pochissimi membri al raggiungimento di 350 persone più cresce la community più c'è la possibilità di fare più gem durante l'anno e grazie appunto alla community stiamo sviluppando anche il sito internet e all'interno del sito internet vorrei proprio inserire i vostri videogiochi quindi ragazzi innanzitutto se vi piace l'idea di portare delle rubriche del genere qui sul canale fatemelo sapere qui sotto con un commento e io questa qui ci tengo particolarmente perché in queste settimane ho ricevuto veramente tantissime mail con i vostri videogiochi e ad alcuni di voi l'idea di avere un mio feedback magari piace quindi perché no perché non farci dei video appositi ho intenzione anche di rilasciare forse delle votazioni ovviamente in base se è il vostro primo videogioco ma mi concentrerò soprattutto nella recensione analisi dei vostri videogiochi dal punto di vista su come migliorare quel videogioco quindi quali sono gli step da fare ad esempio non dirò aggiornare la grafica ma dirò la mia nel dettaglio su come ad esempio renderlo migliore dal mio punto di vista è ovvio che poi ognuno sviluppa il videogioco a seconda appunto anche dei propri gusti quindi ovviamente la rubrica crescerà settimana dopo settimana appunto ancora la rubrica non so ogni quanto uscirà infatti a seconda delle mail che mi arrivano devo decidere se fare ad esempio un episodio ogni settimana oppure semplicemente fare un episodio ogni 10 15 giorni tutto dipende a seconda dei videogiochi che mi mandate quindi vi spiego subito come fare per inviarmi il vostro videogioco la prima cosa che dovete fare vi lascio il link in descrizione qui vi faccio vedere come esportare il proprio videogioco utilizzando construct in html e pubblicarlo sulla piattaforma itc infatti molti di voi che sono ancora le prime armi non sanno appunto ancora condividere il proprio videogioco quindi in caso nel link che trovate in descrizione vi faccio vedere passo passo se state sviluppando un videogioco con construct come esportarlo e appunto caricarlo su itc in modo tale che poi potete mandarmi soltanto il link molto importante potete mandarmi il vostro videogioco anche se lo state sviluppando in unity in game maker in rpg maker in qualsiasi tool quindi non vi preoccupate però dovete seguire appunto delle cose molto importanti ovvero dovete mandarmi un email a questo indirizzo che trovate qui che lo trovate anche in descrizione però in descrizione trovate il template delle mail che dovete mandarmi quindi ad esempio l'engine che avete utilizzato quanto tempo ci siete stati per averlo sviluppato chi sono i creatori quindi ad esempio se l'avete sviluppato da soli o in team o ad esempio se le grafiche le avete fatte tutte voi o la musica no tutte queste cose quindi mi raccomando guardate la descrizione perché nella descrizione vi dico l'oggetto che deve avere le mail se no poi mi arrivano tantissime mail non ci capisco nulla anche se sto creando un'apposita email per questo e vi dico anche le domande a cui dovete rispondere quindi compilare la mail comunque molto semplicemente dovete dirmi anche se il vostro primo videogioco oppure no e poi dovete anche allegarmi in caso il vostro portofoglio comunque mi raccomando se non rispettate effettivamente le mail alcuni magari li scarterò alcuni no quindi cercate appunto di essere abbastanza precisi che con queste cose ci tengo un po in modo per avere ordine e anche in modo tale che nel momento in cui li caricherò sul sito in futuro ci sarà appunto un maggiore ordine anche dei vostri videogiochi è ovvio che per caricare all'interno del sito internet dovrei avere il consenso da parte vostra cosa vuol dire che se all'interno del videogioco ad esempio ci sono dei contenuti particolari o dei contenuti sotto copyright l'unico che ci risponde sono io perché il proprietario del sito sono io quindi in caso quello che metteremo saranno soltanto redirect quindi all'interno del sito metteremo il link al vostro videogioco ma comunque questa cosa è una cosa che tutto dipende in caso appunto dai vostri feedback e dai videogiochi che mi mandate quindi ragazzi con questo video apro l'era di una nuova playlist dove principalmente vado a provare i vostri videogiochi sono stra contento di questo perché tuttora me ne arrivano veramente veramente tanti infatti potete comunque mandarmi il vostro videogioco privatamente perché magari volete semplicemente dei feedback e quindi ancora non lo vorrete rilasciare quindi mandatemi comunque i vostri giochi in maniera privata e per mandarmeli in maniera privata potete o mandarmeli alla mia mail samushakagio.gmail.com ma se volete invece apparire nel video quindi volete un video dedicato comunque dove parlo all'interno del video anche del vostro videogioco mi raccomando seguite tutte le indicazioni che trovate in descrizione molto importante comunque non dimenticate anche per ricevere dei feedback che è veramente una delle cose che ognuno di voi dovrebbe fare mi raccomando continuate a pubblicare i vostri videogiochi all'interno del gruppo facebook che trovate sempre il link in descrizione quindi ragazzi fatemi assolutamente sapere cosa ne pensate di questa playlist di questa nuova rubrica che ancora non ha un nome quindi vedremo cercherò più in là anche di creare un intro di creare un logo infatti comunque il canale sta crescendo anche grazie a voi che siete sempre di più quindi ragazzi fatemi assolutamente sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate di questa nuova serie e mi raccomando mandatemi tutti i vostri videogiochi quindi ragazzi guardate il link che trovate in descrizione dove vi faccio vedere come esportare il vostro videogioco utilizzando construct 2 e construct 3 e pubblicarlo su itc vi lascio anche il link in descrizione su come esportare i propri videogiochi per windows utilizzando construct e se state sviluppando videogiochi con unity a real o altri engine mandatemi lì comunque seguite però attentamente le mail che è molto importante non so ancora se all'interno di questi video inserirò un mio voto personale ancora non lo so per il semplice fatto che questo voto potrebbe dipendere anche se appunto il vostro primo videogioco oppure no quindi ragazzi per questo video è tutto mi raccomando se vi è piaciuto questo video ma soprattutto se vi piace questa playlist fatemelo sapere non solo con un commento qui sotto ma anche con un bel pollicione in su se vi piace l'idea di vedere ogni giorno un video riguardo al mondo dello sviluppo di videogiochi vi baso semplicemente cliccare il bottone iscriviti così siete sempre aggiornati con i video che faccio giornalmente vi ricordo anche di controllare in fondo alla descrizione che trovate il link al gruppo facebook il mio instagram le solite cose e anche i due link ai due video corsi totalmente gratuiti e vi annuncio che sta arrivando il terzo datemi veramente un vostro feedback giù nei commenti riguardo questa nuova rubrica e non vedo l'ora appunto di raggruppare i vostri videogiochi farci dei video particolari in questi giorni già penso appunto a diverse inquadrature quindi mentre riprende il monitor la webcam il telefono quindi voglio fare delle cose molto molto più fighe quindi ragazzi ci vediamo come ogni giorno con un nuovo video e quindi ci vediamo ovviamente domani ciao